Ciao a tutti ragazzi, oggi ragazzi siamo in un nuovo video, oggi ragazzi il 12 aprile del 2022, oggi ragazzi è il mio anniversario del canale perché quello che l'ho aperto è stato il 12 aprile del 2020 quindi ragazzi, qua è il posto del video che ha fatto più successo l'euforbia catapuzia, ragazzi visto che qua credo che ce ne siano, perché non andiamo a cercarle? che poi dopo ho scoperto anche un'altra cosa, un'altra funzionalità di questa pianta allora andiamo a cercarla, che in teoria, qua non c'è, se volete una pianta del genere no, qua non c'è, qua non c'è, non ce n'è anche qua aspetta andiamo a cercarla aspetta ecco, eccola, eccola, l'euforbia catapuzia, in tutto il suo splendore con anche i suoi simili, anche con questi simili qua ma comunque ragazzi, questa pianta ho scoperto, come ho detto prima, che è un'altra funzionalità questa pianta ha anche la funzionalità, uno, perché per usare, perché irrita, non so, anche un po' come arma perché irrita la pelle e il suo succo, quindi anche se lo dai degli occhi qualcuno diventa cieco questa pianta, se la usi tipo in giardinaggio si usa a volte perché questa pianta ha il potere, con il suo succo, oppure con anche il suo odore di scacciare le talpe, quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto io devo festeggiare l'anniversario e ragazzi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao